Ragazzi faccio questo video perché ho un fottuto bisogno di parlare con voi Come ben sapete ormai sul nostro canale youtube siamo attivi a metà Essendo che stremiamo quasi sempre sulla piattaforma viola qui su youtube non abbiamo molto tempo Però nell'ultimo periodo abbiamo avuto un boom pazzesco con i youtube short Infatti negli ultimi mesi abbiamo fatto quasi 4 milioni di visualizzazioni e più di 10.000 iscritti con i short L'idea sarebbe quella di riattivare il canale youtube con nuovi video e nuovi contenuti Per questo faccio questo video per parlarvi su quello che porteremo sul canale Mi raccomando vi chiedo guardate tutto il video ve lo chiedo non mi metto in ginocchio ma immaginate che sono in ginocchio Ve lo chiedo in ginocchio ragazzi guardate tutto il video perché queste informazioni saranno importantissime E abbiamo bisogno del vostro supporto Sugli short e sui tiktok andiamo alla grande vengono visti tantissimo e siamo seguitissimi sia io che alex Quello che vorremmo è creare dei contenuti validi anche qua su youtube Video più lunghi e non solo di fortnite Esatto ragazzi se siete iscritti solo ed esclusivamente per fortnite disiscrivetevi Sì ve lo sto chiedendo disiscrivetevi ragazzi non mi interessa Ma fidatevi se terrete l'iscrizione ne varrà la fottuta pena Vedrete dei video pazzeschi Porteremo sia video di fortnite che di altri giochi Come avete visto alcuni giorni fa ho caricato ad esempio un video di elder ring Ci piacerebbe portarvi veramente di tutto Video guida, video divertenti, ignoranti, challenge, pop e anche video sugli anime Perché no? Però per fare questo abbiamo bisogno del vostro supporto Quindi vi chiedo se volete aiutarci a rinascere Oltre che negli short ma anche con i video normali Scrivete nei commenti E ovviamente attivate la campanellina e guardate sempre i video quando vi arriva la feed O passate sul canale e guardateli direttamente voi Grazie a questo ci supporterete tantissimo Niente ragazzi il video è terminato Spero che ci seguirete in questi nuovi video E direi che è tutto Un salutone dal vostro Dio Eros E alla prossima E alla prossima